Permesso? Buongiorno sindaco, buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie. Allora siamo con il sindaco Riccardo Polletto. Allora sindaco, io sono onorata oggi perché io darò un assegno di Rete Veneta e di Veneti schiacciati della grande famiglia per questa bambina disabile abbinata a un'altra busta di un imprenditore che anche lui appunto sta aiutando per cercare di veramente sollevare questi bambini da questa terribile disgrazia che hanno avuto e la carrozzina per loro è indispensabile. Allora questo è l'assegno sindaco, questa è la busta dell'imprenditore. Cosa ci vuole dire sindaco? Beh, è commovente vedere che sia l'azione di Rete Veneta e sia l'azione spontanea di un imprenditore che testimonia quanto il nostro territorio davvero sia impegnato nella solidarietà possano cambiare la vita a una bambina che senz'altro ha avuto la sfortuna di avere una sensibilità però in questa sfortuna ha avuto anche la fortuna di avere questi due aiuti molto importanti. Io mi farò garante al 100% che questi denari vengono consegnati alla direta interessata ovviamente col massimo rispetto della privacy, della riservatezza e mi onora essendo sindaco poter anche compiere questi gesti molto significativi. Io la ringrazio sindaco ma soprattutto la ringrazio per la sensibilità che lei ha avuto specialmente assieme alla grande battaglia che ha fatto la nostra emittente Rete Veneta per questi giochi per i bambini diversamente abili. Ecco io penso che tutti dovremmo fare un passo indietro specialmente alla politica e di pensare di più a questi bambini che non hanno nessuna colpa solo di essere diversamente abili. Ciao! 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 Ciao!